dai che, come sei? come sei? dai la mandata viva lei, suez, ingegnere i mandati i mandati viva dai la mandata viva dai la mandata viva dai la mandata viva dai la titica dai la mandata si guarda prima ne so che ti prende la parte va dai va dai va dai va dai va dai è giusto ma era quando un chilo stiamo facendo un cavabri stiamo calcati qua ades ho visto che medidas Vieni tutti che ti costa 1.500 euro.